Patto presunto scellerato tra mafia, imprenditoria e politica. Il Tribunale di Palermo emette la sentenza al processo cosiddetto Villabate. Il progetto di un imprenditore di Roma, Paolo Pierfrancesco Marussig, un centro commerciale a Villabate, in provincia di Palermo, dove non si muove foglia. Se non soffia, il boss Nicola manda là, fedelissimo a Bernardo Provenzano. La trattativa è il patto. La famiglia mafiosa di Villabate assicura. I proprietari venderanno i terreni dove costruire il centro e il comune modificherà il piano regolatore. In cambio, la mafia pretende la scelta del 30% delle imprese che costruiranno l'ipermercato e che gestiranno i negozi ed il 20% dei dipendenti da assumere. Ai vertici del comune di Villabate sarebbe stata pagata una tangente di 300 milioni delle vecchie lire, almeno secondo le intenzioni. In verità sarebbero stati pagati solo 25 mila euro ed il collettore della tangente sarebbe stato il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Campanella, anche lui uomo di Provenzano, poi pentito. An esso i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Maria Patrizia Spina, hanno emesso la sentenza nell'ambito del processo cosiddetto Villabate. Dieci anni di reclusione per Giovanni Lamantia, accusato di associazione mafiosa perché sarebbe affiliato alla clan di Ciaculli, alleato con la famiglia di Villabate. Otto anni e sei mesi per l'ex sindaco di Villabate, Lorenzo Carandino, in carica tra il 2001 e il 2003 e che risponde di concorso in associazione mafiosa. Poi sette anni per Paolo Pierfrancesco Marussig, accusato di corruzione aggravata dall'avere favorito la mafia e titolare dell'Asset Development, che è l'impresa, titolare del progetto. Quattro anni per corruzione semplice al socio di Marussig, Giuseppe Daghino. Due architetti invece sono stati accusati di concorso esterno all'associazione mafiosa perché avrebbero trattato con i proprietari del terreno dove sarebbe stato costruito il centro commerciale. Otto anni per Rocco Aluzzo e sette anni per Antonio Borsellino. Quattro anni e sei mesi, infine, sono stati inflitti all'ex sindaco di Catania, Francesco Lopresti, imputato di riciclaggio perché come titolare di una società maltese di innovazione tecnologica avrebbe incassato la tangente come prezzo di una consulenza per la società di Marussig e poi l'avrebbe consegnata ai destinatari, i pubblici ministeri, loro, Nino Di Matteo e Lia Sava. Le indagini, il contributo dei pentiti, Mario Cusimano e Francesco Campanella che ha raccontato un consigliere comunale dei democratici di sinistra di Villa Abate non avrebbe votato la variante al piano regolatore per costruire il centro commerciale. Poi è stato convinto da Roma, grazie a Marussig che ha contattato Walter Veltroni, suo amico d'infanzia. Ecco perché in aula ha deposto anche Walter Veltroni che però ha negato tutto. L'affare del centro di Villa Abate è precipitato nelle sabbie mobili della burocrazia della regione quando un'altra famiglia mafiosa, i Guttadauro di Brancaccio hanno presentato il progetto di un altro centro commerciale vicino a Villa Abate. È una sentenza importante, commenta il procuratore di Palermo, Francesco Messineo perché tra l'altro conferma e consolida la configurabilità del reato di concorso esterno all'associazione mafiosa. Ho credito moltissimo farlo, è una cosa che ho fatto spontaneamente.